Ehi, mi spiace per il lavoro. Se ti può consolare, abbiamo avuto insegnanti peggiori. Posso aggiungerlo al curriculum? Senti, il New York Bulletin ha lanciato un concorso fotografico. Ho inviato uno scatto ieri. I soldi sono pochi, ma sono sempre soldi. È il giornale di Robbie Robertson. Un tempo lavoravamo insieme al Bugle. Penso di sapere cosa sta cercando. Grazie. Grazie, Miles. Di niente. Se ho tempo, invierò qualche altro scatto anch'io. Robbie diceva sempre, non mostrarmi la città. Mostrami New York. Niente male. Fatto. Ora lo invio e... Peter, come stai, ragazzo? Ciao, Robbie. Scusa l'improvvisata, ma volevo informarti che ho appena inviato una foto per il tuo concorso. Splendido. La pubblichiamo di sicuro. Ora devo scappare in riunione. Se catturi qualche altro angolo autentico di New York, mandamelo. Mi ha fatto piacere sentirti. Anche a me. Grazie. Sapevo che vi avrei rivisti. Sappia nelle scarpe, sappia nei guanti. È un incubo. Ora esaminiamo il cristallo. Qualcuno ci sta osservando, Kimia. Ma non devi preoccuparti. È compito mio. Marco pensava di essere seguito. E... Chi è Kimia? Ehi, MJ. Ehi, sto andando a casa tua per lasciare una cosa. La porta sul retro è aperta? Non lo so. Sono uscito di fretta stamattina. Ci vediamo lì. Ok, bene. Tu e Miles siete tornati a scuola. Sì! Sì! È stato un primo giorno impegnativo. Domani andrà meglio, vedrai. Di questo sono sicuro. A dopo! Che c'è di peggio che essere licenziati? Dirlo alla propria ragazza. Alla Hof付 Che c'è di compagno? C'era un traffico tremendo. Sandman ha fatto davvero un casino. Cominci a prenderci la mano, eh? Beh, per la città è comoda. Però non sono convinta che mi piaccia. Hai convinto me? Cosa c'è? Mi hanno licenziato. Mi spiace, eri così emozionato per quel lavoro. Lo so, avevo già programmato tutto il semestre. Avremmo costruito elicotteri alimentati a patate. Mi dispiace tanto. Almeno presto potremo fare i disoccupati insieme. Vuoi dire che Jonah si è già scatenato? Più o meno. Inizia a fare discorsi sulla meritocrazia radicale. Addirittura, e che vuol dire? Vuol dire che... chi non riuscirà ad avere un pezzo da prima pagina se ne va a casa. Oh, beh. Allora non rischi niente. Perché sei la cronista migliore. Cos'hai lì? Libri sulla simcaria invenduti. Non so più dove metterli. Ma hai avuto grandi recensioni. E ho venduto solo 14 copie. La simcaria non interessa a nessuno. Il più goldetta legge in città. Li posso fare la differenza. Ma se mi licenziano... Non so cosa fare. Davvero? Per trovare la tua strada ti serve il bugle? Ho... Provato a fare qualcosa dall'esterno e... Solo 14 copie. No, devo... Cambiare le cose dall'interno. Non ho avuto tempo per pulire. Stanza sul retro? Già. Intanto... Metto un po' in ordine. May ha ipotecato la casa per tenere a galla il fist. E ora affondo io. Vorrei dedicarmici. Ma non trovo mai il tempo. Peccato che l'insegnamento non abbia funzionato. Che farai ora? Non lo so. In realtà vorrei prendermi una pausa, ma... Non posso proprio permettermelo. Beh, perché non vendi la casa? No. Non posso. Cioè, potrei, ma... Non posso. Nel frattempo... Potrei pagare io l'ipoteca? No, non posso permettertelo. E poi dicevi che Jonah potrebbe fare dei tagli. Non mi lascerò licenziare da lui. So quanto tieni a questa casa. Troveremo una soluzione. Ah, non ti merito. Ehi, hai ripensato all'idea di trasferirti qui? Ne abbiamo già parlato. Io devo vivere in centro, vicino all'azione. Ma pensa alle cenette romantiche che faremmo. E da quant'è che non torni a casa per cena? Colpito. Ehi, e questa roba? Sono tutte cose di me? Sì, vorrei donarle in beneficenza, ma non ora. Che cosa guardi? Alcune tue vecchie foto molto carine. Cavolo, non le vedevo da parecchio. Penso fosse in camera mia. Perché scattare una foto? Equilibrio. Cosa vuol dire? Chissà se è ancora lì. Diamo un'occhiata. Fammi sapere cosa trovi. Io continuo a sfogliare queste foto che mi tenevi nascoste. Oh, che spadatore. Servirebbero delle candele. Gli adulti mettono le candele in bagno, giusto? Oh, cavolo. A volte ti prende la sprovvista. Profuma ancora di me. Ma dov'è che era quel foro? Oh, Nei. Guarda che occhialoni. Zio Ben. Che figo. Spiderman, pericolo o minaccia? Le linee sono aperte. È una minaccia. È anche bella grossa. Lasciatemi dire una cosa. Ho detto cosiddetto supereroe. Non è super e neanche un eroe. Quindi come dovremmo chiamarlo? Un impostore? Un esibizionista? Ve lo dico io? Cosa succede? Niente. Peter. Ecco, mi sembrava... Pensavo... Credevo che ci fosse un topo nel muro. C'è qualcosa che non va? No. Stavo soltanto... Alla tua età, ero a capo del club di dialettica. Capitana della squadra di calcio, nonché secondo violino dell'orchestra. Ogni anno raggiungevo sempre un nuovo traguardo. Ma quando decisi di puntare a essere anche la prima della classe, sono crollata. Dalle celleri in qualcosa, non sapevo più fare niente. Così... Ho rallentato. L'equilibrio è un processo, non un traguardo. Ci sto ancora lavorando. Avanti. Su, coraggio. Forse May aveva ragione. Non posso fare tutto. A qualcosa devo rinunciare. Dovrei tornare da MJ. Ci sono novità. Domani Raft invierà due prigionieri a Ravencroft per le valutazioni. Sappiamo chi? No, ma voglio scoprirlo. MJ! Sono ancora troppo debole per i tuoi abbracci. Scusa. Harry. Mi sei mancato. Mi sei mancato anche tu. Ho saputo di May. Peter, mi dispiace. Come è andata in Europa? Dovete scusarmi. Mi hanno messo in isolamento per le terapie qui in città. Non volevo farvi preoccupare. È la stessa malattia di tua madre? Beh, era. Al passato. Pare sia in remissione. Ma... Ma Harry, questo è... Non posso crederci. Stai... Alla grande. Puoi dirlo forte. No, devo tornare al lavoro. Cena domani. Connie Island? Come ai vecchi tempi. Andata. Questa è nuova. È un'abilità che ha sbloccato nel suo viaggio in sincaria. Scusa se sono venuto senza avvertire. Ma cosa... No, ma figurati. Vuoi entrare? In realtà... Speravo di fare un giro insieme, se hai tempo. Certo. Non posso credere che la scassomobile funzioni ancora. Ho pensato... Di stupirti con questa. Vai. È la mia vecchia bicicletta. No, l'ho trovata su internet. Però è quasi identica, no? Wow. Sì. Addirittura... Gli stessi adesivi. Sicuro che non sia la mia bici. Sei pronto? Sì. Dove andiamo? Lo vedrai. Forza! Stammi dietro! Sei sicuro di farcela? Eh, sì. Mi sento bene. Usavo il bastone per sicurezza, ma... Non mi serve. Mi sembri molto più in forma di me. Allora, dimmi tutto. Che hai fatto di recente? Solo supplenze tra un licenziamento e l'altro. Do anche ripetizioni a uno studente delle superiori. È... Speciale. Ed è anche fortunato. Non avrai mai passato l'esame di calcolo senza di te. Ah, ho letto del tuo vecchio capo, il dottor Octavius. Roba assurda. Diciamo così, sì. Mi è dispiaciuto che tu non ci fossi. Harry, perché non mi hai detto che eri malato? Sarei corso da te. Non sarebbe stato un bello spettacolo. La terapia è stata orritima. Dalleggiavo una capsula curativa. Mi provocava in un'intervento. Una capsula? Wow. Pure sperimenta. Sarà stata... dura. Andiamo! Si sta chiudendo! Mi spiace, Harry. Ma... Siamo alla Midtown High. È lì che stiamo andando. Ne confermo, ne smentisco. Questo posto sembra identico a com'era dieci anni fa. Grazie. Vieni. Perché siamo qui? Noi odiavamo il liceo. Ti ricordi di quando Flash e i suoi amici mi hanno preso e rotto il portatile? Perdemmo la presentazione. Per il concorso dei giovani imprenditori ci avevamo lavorato per mesi. E la finale era il giorno dopo. Avevo un backup su una USB. Ma era nel tuo armadietto. Avevamo chiamato la scuola per poter entrare. Ma dopo ore ci dissero di no. Eravamo così disperati che abbiamo provato ad aprire tutte le porte della scuola. Per poi arrivare a questa. Aspetta, cosa vuoi... L'avevamo forzata. Ci va? Non c'è nessuno. Andiamo. Sei sicuro che la chiavetta sia lì? Quasi. Cosa? Non ne sei sicuro? Lo ero. Cioè, lo sono. Perché me lo chiedi ora? Ora è il turno di una giovane promessa. Il numero 12... Aspetta. Eric Monacelli. È baseball Rick. Che ci fa qui di venerdì sera? Ascolta la partita. Continua a giocare come stai facendo, ragazzo mio. E vedrai che diventerai una leggenda. Corriamo fin là. Aspetta. Ci vediamo. Hai segnato due punti. Questo ragazzo ha la stoppa del campione. Sono sicuro che... Cerca di fare rumore. La squadra ha un ultimo sforzo in questo girone di ritorno. Sporca troppo. Non hanno alcuna intenzione di deluderli. Wow! Ha ha! Questo è stato un grande intervento. Riparati a un placcaggio, Flash. Sì. Bene. Andiamo. È roba da criminali. Sono un criminale ora. Non ti ho detto che ho mostrato la nostra presentazione a mia mamma. La trova fantastica. Ha criticato solo una cosa. Il nome. Lei ha suggerito curare il mondo. Cavolo! Ma è perfetto! Vero? Una volta di sopra il tuo armadietto è uno dei primi, vero? Giù! Ci ha visti? Non credo. Dividiamoci. Ci vediamo in palestra. Ehi! Chi c'è? Siamo nei guai. Siamo nei guai. Made! No, le ho finite. Dove sei, furfante? A qualcuno piace giocare, eh? Devo riuscire a ricaricare il lancio ragnatele. Dovrei avere del fluido nel laboratorio fotografico. Devo imparare a gestire meglio il mio fluido di ragnatele. Devo imparare a gestire meglio il mio fluido di ragnatele. Quindi, biblioteca-laboratorio, laboratorio-palestra, palestra-armadietto. Facile. Via libera. Meglio muoversi. Che cos'è? Ehi! Ah, avrei dovuto salvare il progetto online. Sono sicuro che fosse un ragazzino. Di certo non era il fantasma della Midtown. Le grate. Le migliori amiche dei ragni. Già, devo ricaricare i miei lancio ragnatele. Ok, dove ho lasciato il mio fluido di ragnatela? Forse ho anche io i miei eroi da imitare. So di averli messi qui, da qualche parte. Trovati. Oh, cavolo! Non ti fermare, non ti fermare. Ok. Ora serve solo un appendix. Ciao, amico mio. Ciao. Devo trovare il modo di aumentarne la capienza per non restare più a secco. E ora, da Erwin palestra. Ah, per raggiungere la palestra devo passare oltre... Un vecchio zaino. Non ricordavo fosse qui. Dovrei iniziare a segnarmeli. Non riesco a liberarmi di lui. Devo distrarlo se voglio uscire da qui. Cos'era? Meglio darsela a gambe. Fermo dove sei, ragazzo. Non scappare. Erry sarà già in palestra. Devo sbrigarmi. Baseball, Rick. Devo allontanarlo dalla porta. Scusa il disordine, Rick. Ok. Ora, venitemi a dire che non c'è un fantasma. Non un fantasma, ma un ragno. Ehi, pensavo di avessero preso. Recuperiamo la chiavetta e andiamocene. Tagliamo per la palestra. Che ricordi. È stato incredibile. È rimasto tutto com'era. Tranne le guardie che ci inseguono. Quindi, abbiamo tempo per fare due tiri. Sicuro di farcela. E tu, piuttosto? Fatti sotto, chiacchierone. Ora mi scaldo, ok? Ok. Sono davvero felice che tu stia meglio. Sul serio. Grazie. Ehi, sei riuscito a sistemare la casa di May? Per ora no. Sono stato impegnato. Non lo so. È strano cambiarla. Certo. Deve essere stata dura, Pete. Capisco. Ok. Ehi, ci siamo. Quando vivrai con MJ ti aiuterà con la casa. Non lo so. Non lo so. Dici di no? Non so se verrà da me. No. Credevo che andasse bene tra voi. Era a casa tua. È complicato. Ma andrà bene. Come sempre. Non male. A quanto siamo? Non ne ho idea. Neanch'io. È bello essere qui. Ti ringrazio. Prego. Ma non è ancora finita. Conosco quello sguardo. Che cosa ha in mente? Sai ritrovare il tuo armadietto? Secondo te dov'è quella guardia? Nell'ala est almeno credo. Allora prendiamo l'OSB e andiamocene. Dobbiamo punire Flash per averti rotto il computer. Lascia perdere. Non può passarla, Alicia. È il capitano della squadra di fumo. La vincita indicheremo vincendo il concorso di domani. Presto, qui sotto. Tornerà nell'ascensore. Ah, ho già controllato questo piano tre volte. È una caccia ai fantasmi. C'è qualcuno? Che succede? Andato. Oh, che fortuna. Oh, sì? Prendi la chiavetta e andiamo. Che cos'è? E come hai... Eh, dai. Prendilo. Oh, cavolo. Chi c'è? Niente male. È d'accordo anche lui. Oh, no. Corri. Ehi! Così ci farai arrestare. No, se non ci prende. Non è il tipo di nostalgia che mi piace. Hai ancora la chiavetta? Sì. Dobbiamo uscire da quelle porte. Dai, ci siamo. Aprite la polizia! L'ho chiamata io! Siete nei guai adesso! Vai! Bah. Trattieni lì solo un minuto. Ho un'idea. Che cosa dovrei fare? Vabbè, non farti prendere. Ma certo! Polizia! Aprite! Ehi! Ci ha chiamato lei? Già, sono qui da qualche parte. Ok, voi due date un'occhiata. Noi parliamo con questo tipo. Devo isolare la guardia per recuperare la chiavetta. Sono qui da qualche parte! Li stiamo cercando, ma serve una testimonianza. Cosa hai visto? Baseball Rick, voglio dire il bidello. Ha sentito dei rumori. Ma lui è un tipo un po' originale. Originale? Cioè, è mezzo matto? Diciamo che ha le sue idee. È convinto che nella scuola si nasconda un po'. Ma non c'è nessun palontato. Così sto da qui. Beh. Li hai visti coi tuoi occhi? Non proprio, no. Cos'era? Movimenterà la situazione. Bene. Ora devo solo distrarle l'ultimo tizio. E ora una cosina che amo chiamare furtarello a testa in giù. Questi ragazzini mi prendono in giro. Come se avessi tempo da vendere. Quello è proprio sopra di noi. Generali mi starà aspettando la seata. Magari ha preparato del pop-corno. E cos'era? E ora come me ne vado da qui? E ora come me ne vado da qui? Ah, c'è tempo. Sono nell'ufficio! Never gonna give you up. Never gonna let you down. Ok, devo andare! Ce l'hai? La polizia! Non è la polizia. È mio padre. Papà, ti avrei chiamato una volta a casa. Tua madre. Che è successo? Peter. Puoi scusarci per un momento. fuori scusarci per un momento. Tutto una volta. Che è successo? È tutto il momento. Attraverso una volta. Il momento è stato leggero scusarci per un momento. Harry, che cos'è questo? Penso avremmo vinto quel concorso, avessimo partecipato. Gli ultimi anni sono stati intensi. È un miracolo che io sia ancora qui. Ho una seconda occasione. E non intendo sprecarla. Ma ho bisogno di te, Pete. Wow, sai, non me l'aspettavo. Perché non vieni al laboratorio domani? Hai già un laboratorio. Ti presento le mie idee e magari ne discutiamo insieme. Ci stai? Ok. Pete, cureremo il mondo intero. Confermo unità d'assalto K1 in arrivo. Rapporto! Edificio e arena quasi completati. Ricognitori a rapporto. Sandman è fuggito. Impossibile ricatturarlo. Non era la preda giusta. Ricevuto. Attendiamo ordini, signore. Preparatevi per il trasferimento. E niente più errori. Il mio nome è Miles Morales. È più banale di così, si muore. Ehi, Miles, hai da fare? Qualunque cosa sia, ci sono. Aiuto per una missione di scorta a Rapp. Benone! Dimmi tutto. Non guardarmi così, papà. È per staccare un attimo. Hola, amigo. Come vai, saggio? Beh, procede. Ora devo uscire, aiuto Pete, con una cosa. Dobbiamo... Sai, preferisco non sapere i dettagli. Sta tranquilla, ma... Espera un momento. Beh, negli ultimi tempi ti è capitato di lavorare fino a tardi la sera. E anch'io lavoravo fino a tardi. In realtà non lavoravo. Non guardarmi così non sono nei guai. È solo che ho avuto appuntamenti. Di quelli veri. Oh, ok. E c'è un uomo. L'ho visto qualche volta e... Beh... Sta andando bene. Che cosa mi stai chiedendo? Vorrei invitarlo a casa. Per un pastelon. Beh, con la mia spider vita posso lasciarvi, sai... Parecchia privacy. No, mi piacerebbe presentartelo. E farvi conoscere. Ma se sei a disagio, lo capisco, tranquillo. Ma... Mi avevi convinto a pastelon. A dopo. Ok. Certo. Meglio andare al draft. No, mi piacerebbe. No, mi piacerebbe. No, mi piacerebbe.